Amarico è molto, mi ritorna un po' in mente la partita con lo Spezia, sono quelle partite che sono già quasi chiuse, quindi non c'erano i presupposti per prendere gol, però ci può stare nel calcio, è chiaro che certi errori si pagano a caro prezzo, io spesso dico che se ci fosse il time out come in altri sport si subirebbe meno reti, perché basterebbe un attimino riportare a quello che occorreva in quel momento, più di determinazione, più di cattiveria, più di voglia di portare un risultato in fondo che era meritato. Perché noi ultimamente abbiamo saputo anche rimontare delle partite, è sempre il solito discorso, è l'atteggiamento mentale, in Italia facciamo fatica a scardinare questa cosa, quando spesso un po' l'avversario è chiaro che fa qualcosa in più, tu devi rimanere equilibrato, convinto, devo dire la verità, in queste ultime partite abbiamo subito un po' più gol, però abbiamo concesso meno paradossalmente. È una squadra che è molto tempo che gioca insieme, sono giocatori che interpretano in maniera perfetta la categoria, grande attenzione, grande determinazione, giocano con una furia agonistica che raramente si vede e quindi hanno ottenuto dei risultati importanti. Adesso sono anche, devo dire, sull'ali dell'entusiasmo, insomma, credo che il Carpi sia difficile che non possa centrare questa promozione. Non ho mai visto lavorare il mister, però è un sanguigno, è un tecnico che è molto pragmatico, le sue squadre sono sempre state squadre ostiche da affrontare, io l'ho incontrato anche quando io allenavo la Rondinella e lui allenava il Lanciano l'anno della promozione, ecco già, quella è una squadra solida, una squadra difficile da affrontare, quindi è rimasto un suo marchio questo, ha trovato un ambiente già legato e lui ha dato ancora più forza.